Un sospiro di sollievo dopo la grande paura di ieri, la cessazione dell'intensità della pioggia caduta in abbondanza nelle ultime ore ha fatto sì che il cerfone che ieri era esondato in una zona che da oltre 30 anni non registrava fenomeni di questo tipo, tornasse nei suoi ranghi. Quello che abbiamo già documentato nell'edizione di ieri è significativo e stride con le immagini di questa mattina dove si evidenzia come per fortuna l'acqua sia tornata all'interno del suo alveo ma la differenza fa capire quanto fosse carico il torrente che tra l'altro questa estate complice l'ondata di siccità che ha colpito la nostra zona aveva accusato il colpo fino a restare vivo solo in piccole pozze d'acqua che tra l'altro costrinsero anche a degli interventi della polizia provinciale. Nel salvataggio della fauna ittica e proprio rivedendo quelle immagini comparate a quelle di 24 ore fa si capisce come la portata delle acque e la buona tenuta degli argini abbiano impedito lo sviluppo della piena in una zona che i geologi da sempre hanno classificato ad alto rischio. Danni limitati, si registra solo una frana media nella strada comunale di Scandolaia. Serve attenzione per chi passa nella zona. Grazie. Grazie.